Ciao a tutti, benvenuti in un altro video di dieta, tanto mi scuso per la luce ma sono tipo alle 5 di pomeriggio e poi come sapete in questa stagione bellissima c'è già buio quindi io ho acceso tutte le luci possibili in camera mia ma la luce è questa quindi mi dispiace ma mi vede così, facciamoci un'altra bene. Ho ricominciato con la dieta perché da luglio che avevo smesso appunto la dieta dell'anno scorso di luglio, che avevo iniziato a gennaio come avete visto negli altri video che facevo vedere tutti i prodotti alimentari che avevo provato, avevo appunto finito la dieta a luglio perché ad agosto sono andata al mare e allora sapete al mare c'è il papà che cucina quindi addio di età. Poi sono tornata a casa e dovevo ricominciarla ma ho detto ma chi se ne frega, mi sono mangiato tutti i primi momenti, mi mangiamo anche il gatto, quindi niente, dei 12 chili che avevo perso, oh, dei 12 chili che avevo perso ne ho ripresi 6. Yeeeh, brava chi ha? Allora mi sono detta che cazzo devo dimagrire di nuovo, cioè ho fatto tanta fatica perché cazzo devo tornare a ingrassare? No! Anche perché poi il magro si sta anche meglio, lo sapete tutti. Allora sono tornata appunto per fare un video su un'altra integratore alimentare che è il glucomannano, glucomannano, a me mi sembra di dire il lupomannano, glucomannano, vabbè sono io qui. Ed è questo qua. Spero si veda, spero che la fotocamera abbia messo a fuoco, se ne ho messo a fuoco mi spiace io non vedo. Il glucomannano è appunto l'integratore alimentare, è la prima volta che lo provo e non l'ho ancora preso, aspettavo appunto di fare questo video. E' costato per chi interessasse 25 euro, che è 24,99 quindi, ed era in sconto perché costava 32,99. Poi vabbè, chi ne comprava 2 o 3 c'era lo sconto di 10 o 20%. C'ho qua il computer perché volevo appunto leggervi un po' di cosa si trattasse perché qua c'è scritto in lingua che manco lo stroboto, quindi niente, mi sono dovuta attrezzare il computer. E sono andata appunto sul sito dove ho comprato, che è Wake the World, World War. Comunque scriverete come andano sul computer, ve lo trovo. Allora, in questo, in questo robo, quindi in questo coso, ci sono 60 capsule se non sbaglio e bisognerebbe prenderne 6 al giorno, quindi 2 prima di colazione, 2 prima di pranzo, 2 prima di cena, 15-20 minuti prima, appunto di fare questi tre pasti. Quindi, cioè, sono capsule che finiscono subito perché 6 al giorno, cosa durano 10 giorni. Poi, io sono una che magari non fa molta colazione, quindi posso prenderne anche 4 al giorno così mi durano anche di più, sperando che funzionino. Adesso vi dico un po' che cos'è questo grucomannano. Ci sono 3000 mg e qui dice che è un rivoluzionario integratore alimentare che stimola la perdita di peso. Il suo integratore principale, la radice di Kojak, aumenta il volume a contatto con l'acqua contenuta nel corpo, andando poi a espandersi all'interno dello stomaco per un breve periodo e favorendo così una sensazione di sazietà. In pratica c'è lo stomaco, c'è sta pillola che va dentro lo stomaco, con l'acqua si espande, blocca e non c'è più fame. Comunque vi metto una foto così capite meglio. Quindi questa cosa, questa integratore alimentare dovrebbe funzionare così. Poi, dice che grazie a questo effetto benefico sul sistema digestivo ti sarà più facile rispettare la dieta e perdere peso senza neanche accorgerla. Quindi ho detto, cazzo, senza neanche accorgerla, è scioccante sta cosa. Allora, l'ho dovuta prendere perché è così. Poi, ovviamente, quando io vado a prendere integratori alimentari come qualsiasi cosa vado a prendere su Iberi, Amazon, quella roba lì, vado a vedere prima le recensioni. Perché se le recensioni sono buone, ne vale la pena. Se non sono buone, cazzo lo prendi a fare. Allora, adesso vi darò un po' di recensioni. Alessia dice, ho adottato subito la diminuzione di fame. Ottimo, ottimo. Ho detto, ottimo. Poi, ve lo ce la consegni? Sì, ecco, giusto. Io l'ho preso che secondo me era giovedì o venerdì, direi. E me l'hanno consegnato lunedì, della settimana dopo. O lunedì o martedì, comunque è arrivato subito. Se non sbaglio, non si paga la consegna. O sì, boh, mi ricordo più. Comunque io ho progetto con Pipolo. Poi, Dani dice, lo assumiamo da poco. Lo assumo, lo assumo, perché se no è uno solo. Lo assumo da poco, ma mi sto già accoggiando dei risultati. Non avevo mai trovato un prodotto dimagrante naturale che funzionasse così bene. Questo l'ha detto Paolo, un maschio. Quindi, sarà detto un maschio. Eh. Poi, Lucia dice, sto usando grucomannano da poco, ma mi trovo davvero bene. Lo consiglio a tutte le mie amiche. Ho la pancia meno gonfia, anche se lo prendo da poco. Molto contento. Quindi, io in base a queste recensioni ho detto, cavolo, ci sono delle belle recensioni. Scusate. Ho detto, cavolo, ci sono delle belle recensioni. Lo prendo, lo provo e vedo com'è. Adesso faccio appunto questi video così, magari, se anche qualcuno di voi volesse provare a dimagrere con questi integratori alimentari, vede gli effetti che fa su di me. Se è soddisfatta del risultato, come lo sarò io sperando, ce lo va a comprare. Poi, ah, il giusto qua dice che per ottenere i massimi benefici da grucomannano 3000 mg, è consigliato di assumere 3 grammi di radice di coca al giorno, cioè l'equivalente di 6 capsule giornaliere. In particolare, consigliamo l'assunzione di 2 pillole 15-20 minuti prima di ognuno dei 3 pasti principali, accompagnato da un abbondante bicchiere d'acqua. Ovviamente, perché mandate giù così? Eh, io neanche con l'acqua riesco a mandarle giù. Poi, ah, giusto, c'è scritto che qua dentro, in grucomannano, non c'è caffeina, quindi non c'è problema da prenderlo di sera. L'ultima cosa che vi dico, perché credo di avervi dato tutto, è che questo integratore alimentare, oltre alla proprietà di emagranti, dice che tiene sotto controllo la glicemia di colesterolo. Quindi, chi ha di questi problemi e vuole provare l'integratore alimentare, gli consiglio questo, cioè il consiglio, qua c'è scritto così, e quindi, cioè, dovrebbe anche aiutare. Poi, i suoi benefici per l'organismo e per il sistema digestivo, in particolare, lo rendono adatto anche a combattere la stitichezza. Quindi, chi non va al bagno, meglio che so prenda così, proprio cacca comunque. Adesso poi, anch'io non so, non mancava molto il bagno, quindi voglio vedere se sono di parola qua, perché non si scherza sulla cacca. Va bene, allora, direi di avervi dato tutto, io inizio domani che martedì, oggi non potevo perché non avevo ancora fatto il video, quindi vorrei appunto iniziare dopo avervi fatto il video. e ci rivediamo dopo che vi ho finito per dirvi i risultati, sperando che conti e sperando anche di aiutare voi. se vi interessa, vi rifaccio vedere la confezione. Sperando che si veda, perché sento dei tumori che a me non mette molto a fuoco questa fotocamera, che cazzo. E nulla. Allora, vi saluti e ci vediamo al prossimo video. Anzi, ci vediamo. Sì, ci possiamo vedere. Ciao! Ciao!